Scuola Bus da oggi cambia tutto. L'amministrazione De Caro ha reso il trasporto scolastico più intelligente perché è prenotabile dal sito e perché i genitori potranno seguire gli spostamenti dei fili via GPS. Più giusto perché gli aventi diritto e la gratuità saranno segnalati dalle assistenti sociali, più vicino le richieste delle famiglie perché ridisegnando i bacini offrirà una scelta tra più scuole e renderà meno discrezionale l'assegnazione a una scuola anziché ad un'altra. Il servizio però diventa anche un po' più caro, almeno per le famiglie del ceto medio. Il maggior ricarico infatti è sulla fascia di chi percepisce un reddito ISEE tra i 26 e 30 mila euro. La tariffa passa da 13 euro mensili di quest'anno ai 20 dell'anno prossimo. L'Aggiunta Comunale ha approvato le proposte dell'assessora alla pubblica istruzione Paola Romano. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'iscrizione al servizio, che fino all'anno scorso era prevista in agosto, si potrà inoltrare molto prima. Da ieri è online sul sito del Comune il programma che consente di verificare le scuole di pertinenza e per le quali è disponibile il servizio. E da febbraio ad aprile si potrà procedere all'iscrizione, un'opportunità per far crescere gli utenti effettivi del trasporto scolastico.